Vigili di Como, aperto lo stato di agitazione. È stata inviata oggi al prefetto Bruno Corda, alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali di Roma e al sindaco Mario Lucini la proclamazione dello stato di agitazione del personale della Polizia Locale di Como, aderente al sindacato di Capsulpl, che rappresenta una ventina di agenti, su un totale di 85, appartenenti prevalentemente al settore operativo, sezione dalla quale si sollevano le voci più critiche legate per lo più alla recente riorganizzazione. Dopo la protesta in Consiglio Comunale di alcune settimane fa, alla quale non è seguito alcun incontro con l'amministrazione, il sindacato ha proclamato lo stato di agitazione con richiesta di procedura di conciliazione. Entro pochi giorni dovrà essere fissato un incontro tra le parti. Il perdurare delle criticità emerse nelle riunioni e la mancanza di soluzioni concrete da parte dell'amministrazione comunale, si legge nella lettera, hanno creato una situazione di malessere che potrebbe portare, in caso di esito negativo e del tentativo di conciliazione, si legge ancora, ad iniziative di natura sindacale che ricadano sullo svolgimento dei servizi e sulla cittadinanza. 14 le richieste primarie avanzate dagli iscritti al sindacato, tra queste rientrano l'aggiornamento e la formazione per tutto il personale, la definizione di un numero massimo di servizi notturni, serali e di festivo infrasettimanale, il riconoscimento anche economico dell'anzianità di servizio, l'istituzione di un piano di assunzioni. Vedremo come andrà in prefettura, non ci accontenteremo di risposte evasive, ha detto Sergio Bazzea, il segretario provinciale del DICAP Sulpl. Di certo non potrà essere risolto tutto e subito, ma ho mandato dei lavoratori molto preciso e da quello non possiamo discostarci. La procedura è stata avviata, perciò dobbiamo attenerci all'iter, ha commentato l'assessore alla polizia locale di Como, Paolo Frisoni. Avrei preferito si agisse in un altro modo, con un confronto attorno ad un tavolo, ma avendo intrapreso questa strada non possiamo far altro che adeguarci. Grazie. 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 Grazie.